Musica Ultimi preparativi per la quarta edizione del Paglio delle Contrade, l'ormai tradizionale rievocazione storica del pellegrinaggio che Pandolfo III compì nel 1399 da Rimini a Fano, recandosi al santuario della Madonna del Ponte Metauro per essere sopravvissuto alla peste di quel tempo. Dal 25 al 27 agosto quindi, presso la pineta di Fano, il gruppo storico La Pandolfaccia metterà in scena una vera e propria rievocazione e che ormai, come ogni anno, oltre a coinvolgere i fanesi e non solo, vede diverse novità. Le novità sono che la festa inizierà il venerdì sera, quindi è possibile già arrivare dal venerdì a cena e poi il classico programma del venerdì sabato e domenica con la giostra l'anello la domenica, spettacoli vari, accampamenti, antichi mestieri, villaggio medievale, insomma tutto quello che serve per fare una bella rievocazione storica. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo girato quest'anno anche delle novità logistiche perché abbiamo spostato le tribune nella parte opposta per permettere anche ai visitatori di assistere allo spettacolo in ombra e tante altre novità, ci sarà la provoca di Mondolfo che ci preparerà buonissimi piatti, quindi stiamo lavorando affinché anche quest'anno sia una bella festa. È possibile vedere il programma su www.ilpagliodellecontrade.it o c'è anche una pagina Facebook, sempre Il Paglio delle Contrade, lì troverete tutto il programma e tutti gli aggiornamenti che giorno per giorno indichiamo quello che succede. Quindi vi aspettiamo il 25, il 26, il 27 qui alla piazza di Ponte Metauro, non mancate!